Villa lei è uno strano, lo sanno Facciamo le story su Instagram Perché bofonchi sempre? Perché sei sempre incazzato? È veramente un mondo che gira al contrario Dov'è la bambina? E quello che mi fa incazzare, ma incazzare veramente È che non fanno nulla di nulla di nulla Neanche per provare a cambiare un po' le cose Un po' di decenza, dai! Decenza! Ma tu sei qui per fare uno scherzo! Che andrebbe di diventare famoso? Guarda, non ho nessun talento in particolare, mi spiace Talento? Non ci vuole nessun talento per diventare famoso Tornerò quando ti sarai calmato, ok?